Una serie di spettacoli dedicati alle generazioni dei più giovani, ma non tanto come tema degli spettacoli ma proprio sulla drammaturgia contemporanea, quindi nuovi compositori di spettacolo e nuove scene per i ragazzi. Il teatro e le nuove generazioni a D'Arezzo tornano in scena dal 12 febbraio al 15 aprile gli appuntamenti della fortunata rassegna Zeta Generation Meet Theater a cura di officine della cultura in collaborazione con Fondazione Guido D'Arezzo. Si parte il 12 febbraio con questa splendida non belligeranza che è uno spettacolo che ha vinto quest'anno il festival nazionale in box, quindi 80 teatri hanno scelto questo spettacolo da mettere in scena. Continueremo con il 25 febbraio Dialogo degli Dei, uno spettacolo che verrà fatto anche in mattine da Isacchi di Sabbia, un gruppo di pisani veramente simpatico che racconta i classici in maniera divertente. Il 18 marzo Salto di specie, il nuovo spettacolo di Collettivo Controcanto, un gruppo di giovani romani che ha fatto grande successo e sta esplodendo in tutta Italia per gli spettacoli che sta facendo, una drammaturgia di gruppo veramente importante. 26 marzo Una Talpa, uno spettacolo che è nato qua in provincia perché ha fatto una residenza a Monte San Savino e poi debutterà proprio al Teatro Pietro Aretino e la mattina la faremo vedere anche ai ragazzi. Chiudiamo con Il Bambolo, 15 aprile, uno spettacolo che è passato anche dal piccolo di Milano, quindi una chiusura col botto per la nostra Z-Generation.